Le sue vittime erano tutte giovanissime ragazze, si avvicinava loro sull'autobus o d'intreno quando erano sole ed indifese, le molestava e palpeggiava, poi si dileguava scendendo velocemente alla prima fermata utile, in modo che le ragazze non potessero fermarlo o dare tempestivamente l'allarme. Ma adesso gli agenti del commissariato di polizia di Montevarchi sono riusciti a rintracciare il molestatore seriale di viaggiatrici. Tutto era iniziato nel maggio scorso, quando la madre di una 15enne valdarnese si era rivolta alla polizia per sporgere denuncia nei confronti di un uomo che sulla tratta ferroviaria Montevarchi Arezzo aveva molestato la figlia. Gli agenti hanno subito avviato una complessa e delicata attività di indagine, acquisendo le testimonianze degli altri viaggiatori e le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il molestatore, un quarantenne egiziano domiciliato in provincia di Firenze, già noto alle forze dell'ordine per analoghi fatti risalenti all'anno scorso, è stato così identificato. Per quest'ultimo episodio l'uomo è stato sottoposto ad un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo, ossia l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di permanenza notturna.